cucciolina del mio cuor ciao allora te ti devo assolutamente ripristinare mi devi ridare il telefono salutiamo ma che salutiamo appena iniziato il video già salutiamo facciamo i saluti all'inizio adesso dai come si chiama è questa qua non lo sei neanche capace a nominare pinguin gong sarà cinese questa bimba e salutiamo pinguin gong dalla cina fai niente dal nome mi sembra cinese quindi visto che non la conosco per me è cinese allora cuccioline oggi andiamo al mare probabilmente proveremo una nuova spiaggia guarda che cavi dal divano abbastanza senti vanessa allora facciamo così non andiamo al mare e vai a fare i compiti perché tua sorella li ha finiti i compiti tirati su molla il telefono che dobbiamo ripassare le regoline dai van e andiamo a metterci il costume dai dai vanessa e allora allora visto che io voi non ho ancora detto una sorpresa che avverrà fra qualche giorno non lo voglio svelare ai nostri cucciolini non sapete chi è che arriva qui voi non lo saprete mai fino al giorno in cui arriveranno spegni il telefono perché sennò la poverina diventi tu Anastasia Anastasia è uno Anastasia è due cosa gli dici sto facendo un video sto facendo un video sto facendo un video ma cosa vuoi fare sei bianca come gasper cioè non gasper è il nostro gatto scusa come casper il fantasmino ti sei sbiancata hai sonno perché non stai facendo nulla allora vai a fare i compiti dai vai a fare i compiti mortissima vai a fare i compiti con lo smalto nero dai prepariamoci prepariamo mettiamo prepariamoci mettiamo i costumi e mettiamoci a dormire buona notte domani Anastasia si mi stai scrivendo una lettera o le dovevi dire solo ciao ciao a dopo a dopo ciao a dopo domani a domani a domani a dopo domani dopo domani tra due giorni pure mua cioè anche mua le dice ma lei non ti vede e non ti sente aspetta ma fai Vanessa Anastasia aspetta ma fai Vanessa oddio mio me la passi a pingguang per favore a pingguina me la passi un attimo metti giù muoviti da chi? l'ha persa l'ha persa per strada devo dire che fu ma non lo so è cinese dai metti giù ciao faccio l'ultimo giro ma che ma il giro di cosa adesso te lo faccio fare io a te l'ultimo giro dai Anastasia sta oh Anastasia ha tolto il cellulare ma come mai la sua spontanea volontà tu vuoi andare al mare? si perché mi porgi la mano? ok allora andiamo a mettere il costume non ti permettere questo è mio no stop eh no non è tu Anastasia smettila Anastasia smettila che mi bruci i peli mi bruci i peli smettila non te lo do non te lo do vai a mettere il costume scegliamo il costumino dai Anastasia prova a vedere se dentro questa borsa ci può essere un costume che ti può andare bene se no dobbiamo andarlo a cercare da un'altra parte tieni ok dai vediamo cosa c'è qua dentro quello l'ho questi si una cucinella lasciala stare dai guarda se c'è il costume che ti può interessare questo no ecco questo qua vuoi mettere questo amor? ma niente è una cucinella vuoi mettere questo e l'altro pezzo ma non è che è cattiva? si è cattiva ha nascosto il coltello in tasca attenta perché se estrai il coltello ti può fare non è che la vecchia è velenosa? si se la tocchi muori no è velenosa è velenosa eh si e adesso? dai Anastasia il tuo costume è avvelenato Vanessa vuoi mettere questo? guarda bene così abbiamo risolto i problemi cosa fai? cosa fai? cosa fai? come? amore non è un gatto è una cucinella non so se a questo richiamo lei possa reagire amore prendila la prendo io? no guarda come sei tenera è velenosa però nello stesso tempo non vuoi farle del male lei ma la prende prende? no ma cosa urli? perché urla? ok Anastasia vai in bagno e mettiti il costume guarda tu sei una zingarella tu sei una zingarella ma è tuo questo costume? è gigante come fa ad andarti? guardate guardiamo eh brava adesso vediamo se riesci anche col pezzo di sopra ho dei grandi dubbi 3 2 1 brava amore mamma come sei bella ma sei dimagrita sembri più magra Bane dai metti il costume anche tu no tu hai scelto questo no questo dai e il pezzo di sopra dov'è? ok vado eh 3 2 1 ok vai dai pezzo di sopra e andiamo 1 2 3 wow signorina ma che meraviglia complimenti complimenti adesso mi preparo anch'io e andiamo in spiaggia ma se ti sei messa il costume andiamo ma non metti nulla sopra? no allora mi prendi la borsa del mare Anastasia ti ho detto che stai esagerando staccati mare siamo in macchina siamo pronte per andare al mare io non voglio dai Vanessina smettila ti giuro a mamma cioè sempre al mare sempre 2 mesi chiediamo qua cioè eh allora voglio riposare alcune volte ma abbiamo riposato ma invece di essere contenta Vanessa tra un mese ricomincia la scuola e poi ti ho già detto che ci sarà una super sorpresa tra qualche giorno di cui voi non siete a conoscenza quindi cerchiamo di goderci questa giornata eh non te lo dico cerchiamo di goderci 9 no 7 cerchiamo di goderci questa giornata Vanessa e che tra qualche giorno si ritorna a casa e poi il mare lo vediamo il prossimo anno non lo vediamo più siamo arrivati in spiaggia c'è un pochino di vento l'aria è fresca dai Vanessi sta bene oggi non mi guardare così male dai che ti diverti Anastasia tu come stai? benissimo dove vai? è caldo lì senti tu hai toccato l'acqua mi hai detto? sì è calda è calda? sei contenta che l'acqua è calda? sì ma se è calda adesso fa caldo beh l'aria è fresca l'acqua calda va bene sono mai contenta ah ti stai già appropriando della mia sedia lo sai che è mia vero? e mi guarda male mi fa morire giochiamo a tennis? vediamo quanti tiri siete in grado di fare vediamo un po' uno prova allora dai almeno tre di fila li dovete fare uno dai Ani su una vuoi fare il bagnetto? tua sorella che si lamentava tanto è già in acqua eh? ma anche tu ti stai un po' annoiando? no no amore sei contenta? ma lo sai che arriva una sorpresa tra qualche giorno io nove giorni? eh tra boh nove giorni più o meno eh tu non puoi immaginare dov'è la signorina che ti annoia ed è andata a fare il bagnetto? però io voglio giocare a che cosa amore? con le racchette? tu sei portato? hai fame tu? e guarda cosa c'è dentro ci sono i tarallucci la banana si adesso andiamo mamma mamma si? posso giocare con voi? non ho capito posso giocare con voi? si finisco di giocare con Vanessa poi gioco con te va bene? ok va bene Ani ma tu mi stai divertendo perché io no quindi quindi me ne voglio andare da qui voglio ritornare a Casanovara so che ci sono sempre dove mettere la casa in caffetto per chi viene in vacanza e cosa vorresti fare? voglio mettere la nostra casa in affetto tanto so l'impierizzo il numero civico so tutto così magari viene qualcuno ad appettarla e noi ci andiamo a Casanovara ok è perfetto è mio ok ma dobbiamo solo aspettare asciuggerla non è nulla bucciole siamo tornati a casa ascoltate facciamo una docina così poi andiamo a mangiare qualcosina eh la signorina uè gli hai spruzzato uè allora ti sembra di essere in piscina? l'acqua è ghiacciata della piscina speriamo che si scalda un po' è cambiato il tempo eh in pochi giorni è cambiato tutto spero si scalderà perché quando? speriamo se le temperature non si alzano un pochino magari quando c'è la sorpresa con una sorpresa molto bella si riscalda eh speriamo infatti avete fame? volete fare un piccolo aperitivo piccolino? prima di andare a mangiare qualcosa? tu hai fame? cos'è che vuoi? volete che vi scaldi un wustel di quelli grandi ve lo taglio a pezzetti? no io voglio i tarallini vuoi i tarallini? senza niente? un po' di formaggio? io lo so pecorino, salame? c'è la costina la? la costina no la costina di maiale? no in questo momento non ce l'ho pronta eh le avrei mangiate anch'io le costine vuoi che ti faccia una coscetta di pollo? ci voglio pensarmi va bene siete pronte? sì andiamo dai Anastasia cambiate i pantaloni staccatevi per favore che dobbiamo assolutamente andare che abbiamo prenotato il ristorante dai li dovete staccare immediatamente dal telefono dobbiamo andare? sì Vanessa hanno suonato state aspettando qualcuno? ma un attimo arrivo ma stiamo aspettando qualcuno? no no ma chi è? andiamo a vedere chi è? c'è un signore buongiorno 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 mi dica bisogno? sono venuto con la casa in affitto no guardi credo proprio che ci sia un errore ma stiamo scazzando vuole che io ho pagato sulla piattaforma guardi le confermo le garantisco che noi non abbiamo messo nessun annuncio però per correttezza vado dentro a chiedere alla mia famiglia c'è un problema c'è fuori un signore che dice di aver visto un annuncio su Airbnb che questa casa era in affitto ed è convintissimo di quello che sta dicendo dice di avere anche già pagato ma sapete qualcosa? no siete sicure? papà vi ha detto qualcosa? non mi sembrava di aver capito che papà volesse affittare questa casa vero? no dio mio ma cosa gli dico io adesso a questo signore? di andarsene Airbnb è una piattaforma seria cioè nel senso se uno paga hai sbagliato io ho sbagliato? hai fatto qualcosa Vanessa? sei sicura? Anastasia Anastasia perché fai così? un gioco stavo facendo prima vero? io ci facevo così lei mi dava un pugno io no bambine ascoltatemi un attimo scherzi a parte no adesso ascoltatemi un secondo scherzi a parte i giochi me li racconti dopo questa cosa è serissima io come faccio adesso a dire a quest'uomo che è venuto qua a dirgli di andarsene devo assolutamente andare a controllare di quale inserzione stia parlando e capire come è stata potuta essere fatta comunque ragazzi salutiamo i nostri cucciolini perché io non so come risolvere questa situazione veramente e chiudiamo il video per favore perché sono un po' in panico ma ragazzi intanto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao ciao che casino ragazzi